ciao buonasera a tutti allora un fenomeno stranissimo qui siamo in am a 108 mhz la portante vi assicuro che è muta non ha tutta questa ronzeria alternata se io mi sposto nella stanza difatti il ronzio aumenta o diminuisce e sposto di qua nessun ronzio qui non ci sono ronzio e qui si vado in modulazione di frequenza stretta fm stretta il ronzio va e viene siamo in fm stretta adesso non trovo più il punto dove ronzava eppure c'è eccolo qui allora io adesso faccio una cosa provo a spegnere il trasmettitore vado qui spengo tolgo anche lo squelch se mi ricordo come si fa eccolo qui tolto lo squelch fm stretta vado in am questa è la m e non c'è nulla sono in am ho aperto lo squelch e ronzio non ce ne sono la frequenza è perfettamente libera la riaccendo un attimo che agganci il PLL tra un po' dovrebbe agganciare eccolo qui però se io vado qui è perfettamente silenziosa non si sa come facciano i 50 Hz arrivare dentro ai 108 MHz quando che effettivamente se io provo a spegnere di nuovo scusatemi e ripetermi vedo che qui sotto non c'è nulla qui sotto non c'è nulla di nulla ciao a tutti grazie per l'attenzione ciao ciao